Serata col botto, siamo giunti a questa finale di Coppa Italia a promozione, il pubblico è in delirio, il Dormelletta affronta presso lo stadio della Venaria il Pedona. Questo è un risultato storico per il Dormelletto che per la prima volta conquista una finale in Coppa Italia, mentre il Pedona aveva già vinto nel 2011 la Coppa Italia di prima categoria e tra l'altro quest'anno ha vinto inoltre la classifica giovani della promozione. Parliamo infatti di una squadra relativamente giovane con età media sotto i 22 anni. All'undicesimo minuto Rizzo dalla destra mette il pallone in mezzo all'area ma a Pepino manca la deviazione in porta. Al ventiduesimo minuto Rossoni devia una palla in direzione di porta ma Porqued intercetta. Al ventinovesimo minuto Dalmasso su punizione calcia un cross in direzione di porta ma Capette tempestivo e afferra al volo. Al trentottesimo minuto Barbero calcia un bel cross dalla destra in direzione della rete avversaria ma Capette si stuffa tempestivamente sul pallone. Al quarantaduesimo minuto Bianchi della squadra di Poma subisce fallo. Bezzu su punizione calcia un tiro cross in direzione di porta ma Porqued para questa palla pericolosa con una parata da manuale. Al quarantasesimo minuto dopo tutto un primo tempo a cardiopalma Dalmasso con un tiro a cucchiaio dalla sinistra segna un golazzo devastante e manda in vantaggio il pedona sul dormelletto. Passiamo al secondo tempo passiamo alla ripresa di questa battaglia. Al terzo minuto della ripresa Bianchi con un tiro raso terra dalla sinistra prova ad espugnare la porta avversaria ma Porqued si butta tempestivamente sulla palla. Al quinto minuto arriva il pareggio arriva l'1-1 Bianchi del dormelletto sigla il pareggio con un tiro dal limite. Al sedicesimo minuto Montagnese si porta avanti con un dribbling sugli avversari pauroso serve il pallone a Rossoni che dalla destra con un cross prova a metterla in mezzo cerca di concretizzare Bezzu ma non spedisce la palla in rete. Al ventunesimo minuto si scatena un principio di rissa in campo due giocatori sono a terra ma per fortuna è nulla di grave il gioco riprende senza problemi. Al ventunesimo minuto illusione di una rete per la squadra di Zappatore Pepino prova ad espugnare la porta del dormelletto ma la palla passa alta sopra la traversa. Al trentacinquesimo minuto sempre Bianchi in area con un tiracucchiaio segna un gol incredibile devastante tra l'altro il secondo personale in partita un golaso che fa saltare i tifosi del dormelletto dalla gioia. Alla fine questa battaglia si conclude con una vittoria sudatissima della squadra di Poma di dormelletto che vince per 2 a 1. Il dormelletto si porta a casa il trofeo regionale tutto ciò ovviamente sotto le urla dei tifosi in lacrime per la gioia di questa sudata e meritata vittoria.